Musica Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Bassano. Andiamo a vedere i principali fatti che sono verificati questa settimana. Con oltre il 50% delle preferenze Luca Zai ha riconfermato presidente della regione Veneto toccando punte del 57% nella provincia di Vicenza ottenendo più del doppio di voti rispetto alla candidata del centro-sinistra. Alessandra Moretti ferma un 23%, il 20% nel Vicentino. Per il centro-sinistra uno smacco fortissimo con un 17% PD, 4% lista Alessandra Moretti presidente. 23% invece il risultato della lista Zai ha seguito dal 18% Lega e delle liste in coalizione a sostegno di Zai a Forza Italia si aspettava ben più del 6% di media regionale. Per il governatore rieletto ora si continua a lavorare seguendo la strada tracciata in questi cinque anni e ringrazio a tutti i Veneti che l'hanno eletto. Ringrazio i Veneti uno ad uno. Io ho sempre detto sarò il governatore di tutti, l'ho dimostrato in questi cinque anni e penso che questo risultato che ne esce vada in questa direzione. è stata premiata la mia imparzialità nell'approccio e io spero che sia stato premiato fino in fondo anche il nostro impegno amministrativo che è stato un impegno importante in un periodo non facile della storia di questa regione dell'Italia. È un risultato che ci dà un grande senso di responsabilità, una grande carica, un grande entusiasmo ma anche una grande legittimazione. Abbiamo perso e anche molto male lo sfogo di Alessandra Moretti. Noi abbiamo perso, abbiamo perso anche male per cui evidentemente su questo insomma i numeri sono da questo punto di vista inconfutabili per cui per me è stata una partita straordinaria. Qualcosa evidentemente non ha funzionato perché non è che ci possiamo dire che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane avremo modo, tempo e anche la lucidità secondo me per fare una riflessione complessiva. Io ho vinto tante volte e questa volta perdo ma perdo con grande senso di responsabilità. Il bassanese Nicola Finco, lista Zaia, è il più votato con 6.692 voti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale Veneto, secondo posto per la lista Zaia sempre occupato da Manuela Lanzarin, 4.871. Elna Donazzan, Forza Italia, ha raggiunto 6.736 voti e la bassanese più votata seguita da un largo scarto da Rossello Olivo, 1.586 voti, 4.071 preferenze per Antonella Corradin candidata a PD, il consigliere di Bassano del Grappa del Carroccio Tamara Bizzotto ha ottenuto 2.049 voti mentre al primo posto della Lega Provinciale con 7.193 voti Roberto Ciambetti. Per il Movimento 5 Stelle Marco Dallagassa, 1.251 voti, il più votato di tutta la provincia. Ilaria Brunelli, indipendenza a Noi Veneto, sa giudica 802 preferenze, seconda ad Antonio Guadagnini, 1.046. Morena Martini, NCD UDC Area Popolare, 406 voti, mentre della lista Alessandra Moretti Presidente, Danilo Cuman, 417, Alessandro Padrin, 266, Alessia Maria Bordignon, 231, Torino Bambieri, 193. Eros Parolini, indipendenza Veneta, 177 voti, Mauro Giuseppe Spigarolo, fratelli d'Italia, 113. E' proprio di Fratelli d'Italia il candidato più eletto della regione, il tienese Sergio Berlato, 10.422 preferenze. No alla centrale idroelettrica sul Brenta, vicino al Ponte Vecchio. Messo i voti in Consiglio Comunale, il progetto è stato bocciato dalla maggioranza che governa Bassano, con invece una per certi versi inspiegabile astensione delle opposizioni. Il voto del Consiglio Comunale ribalta il parere positivo che viceversa era stato espresso nel corso della precedente legislatura. Esulta il comitato sorto contro la centralina, 2.000 firme già raccolte e consegnate al sindaco, altre 1.500 raccolte nel frattempo. Voi state continuando la raccolta firme perché la vicenda della centralina non si esaurisce. Qui è previsto adesso un passaggio in commissione servizi alla regione. Già, è proprio previsto il passaggio. Questo è il momento importante, però andare al passaggio con il voto favorevole del Consiglio è tutta un'altra cosa. Ecco perché siamo così felici. Sulla centrale idroelettrica il comune di Bassano non decide, può solo dare un parere. La parola finale spetta alla conferenza servizi della regione. Perché non vi va bene la centrale idroelettrica in questa posizione, così come prevede il progetto? Perché non è il luogo adatto. Sarebbe bello ristrutturare il ponte, usare quel luogo per fare il cantiere e poi rendere la visuale piacevole per i bassanesi, per i turisti e per tutte le persone che verranno a visitare Bassano. Sette richieste, anzi sette punti programmatici dettagliati da sottoporre alla firma di 15 sindaci del territorio per aiutare l'economia bassanese a ripartire. Alla Confartigianato hanno le idee chiare. Il documento presentato ai primi cittadini disegna un'area in cui le realtà aziendali sono solidamente correlate le une alle altre e che può trovare soluzioni ai propri problemi solo uniformando le politiche dei tanti comuni in cui il bassanese è spezzettato. Cioè avremo meno burocrazia e avremo anche più ossigeno visto che tocchiamo punti anche dove alla fine si tocca proprio l'economia perché quando parliamo di fondi rotativi potrebbe essere una boccata d'ossigeno per l'economia quindi meno burocrazia e più tempo per fare quello che vogliamo fare cioè lavorare. Creazione di un fondo di rotazione unico a tasso agevolato da investire in azioni di produzione e sviluppo stretto contatto con le aziende del territorio per i contratti di appalto di competenza comunale lotta all'abusivismo, regolamento unico per la raccolta dei rifiuti miglioramento delle infrastrutture soprattutto lungo la direttrice Padova Trento. In alcuni casi avete addirittura redatto una delibera da provare direttamente già così come scritta non vi sembra che magari potrebbe dare fastidio il fatto che ci si sostituisca l'attività amministrativa? Ma non credo proprio visto che il nostro è un aiuto quindi spero abbiano la volontà di accettare il nostro aiuto visto e considerato che possiamo insieme risolvere i problemi. Nel Bassanese ci sono più di 12.000 imprese di cui quasi 4.000 artigiane a fare la parte del leone il manufatturiero ma più in generale l'offerta è a 360 gradi dall'edilizia all'informatica, dalle pulizie ai trasporti. Nonostante la crisi abbia prodotto delle chiusure il territorio nel complesso tiene dopo Milano e Torino Vicenza rimane la terza provincia italiana per esportazioni ma non basta. Voi chiedete ai comuni sostanzialmente di mettersi in rete la stessa cosa la si deve chiedere anche alle imprese del Bassanese. Ma questo lo stiamo già facendo noi abbiamo visto che le nostre imprese unendo le forze sono riuscite a raggedire quei mercati che da sole non sarebbero riusciti a raggiungere quindi è un percorso che noi stiamo già facendo dal 2009. Dopo i stati di battaglia si firma la tregua, patto civico di convivenza. Si chiama così l'accordo sottoscritto oggi tra comune, residenti ed esercenti del centro storico. Una sorta di codice di autoregolamentazione per trasformare la movida bassanese in un luogo in cui divertimento, rispetto e decoro possano convivere serenamente. Tutto merito del comune che vigilerà ora sui comportamenti di baristi ed avventori portando i vigili sulle strade fino alle tre di notte. La polizia locale farà la sua parte, tra l'altro andremo in tutti i bar del centro storico a notificare l'ordinanza del sindaco e anche il patto civico perché vogliamo che nel dialogo anche gli esercenti sappiano concretamente quello che devono fare e quello che possono fare. Non solo, il comune è pronto anche a premiare i locali virtuosi con importanti vantaggi e possibili defiscalizzazioni. Secondo me tra un anno riusciremo anche a premiare quei locali che non ricevono segnalazioni, che rispettano le norme che ci siamo dati eccetera eccetera, di premiarli con della defiscalizzazione o insomma per farli anche loro lavorare meglio. I bar che aderiranno all'iniziativa e sperranno all'esterno il marchio locale amico del centro storico, si impegneranno a mantenere il decoro e a evitare rumori dopo le 23.30 ma per loro in cambio anche un'importante novità. Fino a quell'ora infatti potranno diffondere musica anche all'esterno dei loro locali. Questo è un patto che noi accettiamo, che abbiamo condiviso perché per noi vivere con il centro storico, vivere con i abitanti è molto importante. Presidente, è arrivato questo patto, è soddisfatto? Sono soddisfatto perché finalmente abbiamo messo un punto fermo, condiviso. Nove entra a far parte di Etra per la gestione del servizio idrico dopo anni di gestione illegittima affidata dalla precedente amministrazione a un ente comunale dopo battaglie legali costate non poco al comune stesso finalmente si scrive la parola fine. Significa aver completato l'elenco dei comuni che potranno usufruire del servizio idrico integrato da parte di Etra. Etra che è stata individuata nel lato come unico soggetto gestore di questo servizio. Ma perché tutti questi anni di battaglie legali? Molti anni di battaglia legale perché chi amministrava in precedenza il comune di Nove aveva fatto una scelta, una scelta che è stata dichiarata dal Tar sbagliata e illegittima. In cos'è che era differente? Era differente perché non ci si è uniformati alla diffida avuta nel 2011 dall'atto che rappresentava appunto i comuni del territorio e si è scelto di continuare con le battaglie legali. Ci siamo riuniti come amministrazione molto uniti attorno ad un tavolo e abbiamo deciso di dialogare con gli altri comuni, col consiglio di gestione e di sorveglianza di Etra per trovare in collaborazione una soluzione. C'è di più perché sul piatto anche un rimborso che sarebbe stato dato ai residenti 37.000 euro senza alcun motivo. Soldi dati anche in questo caso in maniera illecita che sarebbero potuti essere utilizzati in maniera più proficua, spiega Leverato. Di quei soldi sono i soldi estremamente necessari per fare investimenti nel sistema idrico che significa rete acquedottistica, rete fognaria e gestione del sistema idrico integrato. Il sindaco vuole in ogni caso rassicurare i suoi cittadini, non ci sarà alcuna richiesta di rimborso. È necessario invece adesso riprendere in mano le cose, non chiedere nulla ai cittadini di quanto era stato restituito perché non sarebbe corretto, però trovare una soluzione positiva con Sportello ancora a 9, con una rete fognaria che viene finalmente realizzata su via Molini e via Brenta, sbloccata e con una serie di servizi che dovevamo garantire ai cittadini. La colonnina di Mercurio ha superato abbondantemente i 30 gradi e si è ufficialmente aperta la stagione dei tuffi in piscina, non a Mussolente però, dove la struttura comunale è ancora off-limits. La piscina di Mussolente è stata oggetto di un bando nel corso del 2014, ancora con una delibera di giunta del 2013 e in questo bando sostanzialmente c'è un articolo, il famigerato nostro articolo 19, dove praticamente il rischio di impresa passa dalla società che ha vinto al comune. È evidente che non è possibile che il comune subisca un rischio di impresa rispetto a quello che è, quindi le perdite sostanzialmente e quindi stiamo tentando di risolvere questo problema con la società che si era aggiudicata il bando l'anno scorso. Si parla di decine di migliaia di euro che potrebbero uscire dalle casse del comune, ragion per cui il sindaco Montagnier e la sua giunta stanno cercando una soluzione alternativa. Quello che noi vogliamo fare è quello evidentemente di togliere questo articolo e di riuscire a far capire alla società che è una società cooperativa che non può essere a carico del comune di Mussolenti, quindi di tutti i cittadini di Mussolenti, questo tipo di perdita, anzi. Che cosa si sente di dire ai suoi cittadini? Che la piscina riaprià o con il vecchio gestore o con un nuovo gestore, purtroppo un po' in ritardo, però sicuramente la riapriremo. Danza, teatro, musica, artisti da tutto il mondo, protagonisti del 25 giugno al 13 settembre di Opere Estate Festival Veneto. La carmessa estiva giunta alla 35esima edizione che coinvolge l'intera Pedemontana, sino all'Alta Padovana e Alto Piano. Un'operazione ormai collaudata di rilancio del territorio attraverso la cultura. Oggi la Fenicia di Venezia è la presentazione dell'evento che quest'anno offre diverse novità. Il programma di quest'anno è un vero e proprio viaggio, un viaggio attraverso il territorio. Sono 38 i comuni del Festival, tutta la Pedemontana Veneta coinvolta. È un viaggio nella storia perché c'è un focus importante sul centenario della Prima Guerra Mondiale. È un viaggio perché un altro focus si chiama Esplorando ed è attraverso i territori fisici, il gusto, la bellezza del nostro territorio. I Bassano, città capofila della manifestazione, è pronta ad affrontare questa nuova sfida culturale. Riesce, credo, a dare una coesione culturale a tutto un territorio che naturalmente ne beneficia non solo come turismo, quindi una ricaduta anche dal punto di vista economico, ma ne beneficia anche dal punto di vista della crescita proprio della persona. Un grande prestigio al Comune di Bassano, sia per la molla di spettacoli che vengono messi in campo da questo festival, ma anche per la capacità che è cresciuta costantemente nel corso degli anni di fare rete con moltissimi altri comuni, quest'anno sono quasi 40, e molti altri enti locali, imprese e fondazioni. Quindi veramente un lavoro di rete che è cresciuto nel tempo e ha portato questo festival a livelli nazionali e internazionali. Salve, mi chiamo Chiara, sono una ragazza dell'Aquila e durante i tre giorni della donata degli Alpini che si è tenuta nella nostra città ho conosciuto un ragazzo vicentino. So che è una follia, conosco solo il suo nome e alcuni dettagli della sua vita. Abbiamo passato una serata meravigliosa e io sto facendo di tutto per intracciarlo. Come potete vedere sono una ragazza folle, ma le devo tentare tutte per riuscire a ritrovarlo. Mi disse che ero la donna della sua vita, che sono tutto ciò che ha sempre voluto e io penso le stesse cose di lui. So che è di Vicenza, ma non so in che comune vive. Si chiama Walter e ovviamente ha fatto l'Alpino. Mi aiutate? Chiara. Noi ci proviamo rilanciando l'appello che Chiara ha fatto su alcuni periodici della nostra provincia e dell'Abruzzo. Un appello qui ha scelto di farsi carico anche Elena Donazzan. È bella questa italianità profonda che lega il nord e il sud, il centro con la nostra terra. Allora io spero che questo appello arrivi a Walter e che Walter non sia un marinaio. Un anno fa era iniziata l'avventura di donne per le donne. Lo ricorderete, la sfilata organizzata dall'associazione Marla Uotti di cui è presidente la bastanese d'adozione Prisca Ojocauma. Un anno dopo il cerchio si chiude e quegli abiti, tessuti e tinti dalle donne ugandesi, cuciti dalle donne bastanesi, sono stati messi all'asta. Un'immagine forte per me, per la speranza, perché noi abbiamo puntato sulle donne. Le donne di Bassano del Grappa, anche l'altra parte di Bassano, hanno dimostrato veramente che vogliono ricuperare quella speranza che la gente stanno perdendo in giro. E con un'asta il ricavato a chi andrà? Allora, questo sarà un segno, un segno che è ricavato, una parte va da loro e una parte andrà in Uganda, da quegli gruppi di donne, perché vogliamo la condivisione totale, perché solo con la condivisione questo mondo può cambiare. Donne di ogni età, donne di ogni estrazione sociale, donne unite nella loro forza. Hanno aderito a questa iniziativa Capitanata da Prisca. Che senso ha oggi parlare e intraprendere queste iniziative realizzate da donne per le donne? Ha un senso fondamentale. Fondamentale per noi, che cerchiamo di dare una mano, e ritengo fondamentale per chi lo riceve, se riesce ad affrancarsi da un certo tipo di meccanismo, che invece le stritola e le inghiotte diversamente. Non solo fuori dall'Italia, anche dall'Italia. È assolutamente necessario che le donne riscoprano la fratellanza, anzi la sorellanza tra di loro. Nel momento in cui qua c'è una crisi per il lavoro, bisogna anche pensare a paesi dove il lavoro non sanno neanche cosa significhi, partendo proprio dalle basi, dall'ABC. E infatti i progetti come questo aiutano a industrializzare e a portare il lavoro anche in paesi dove devono pur vivere. Un volo in Mongolfiera, come nel giro del mondo di Jules Verne, è l'esperienza fantastica che hanno potuto vivere i piccoli della scuola dell'infanzia di San Vito in una giornata di festa davvero speciale. Inizialmente previsto per la festa della mamma, il volo è stato rimandato a causa del maltempo. Qualche giorno di attesa in più per un'esperienza davvero indimenticabile. Questa iniziativa è anche a coronamento di un'attività che siamo andati poi a svolgere con i bambini sul volo e quindi sulla Mongolfiera come mezzo aereo. Tre adulti e tre bambini per volta hanno potuto liberarsi in volo e vivere un'emozione unica. L'iniziativa così non è da poco. Poter viaggiare in volo, usare un po' la fantasia col proprio figlio è una cosa meravigliosa. Ecco i risultati d'analisi dell'acqua effettuata da Etra nel comune di Romano. I dati che vi presentiamo rappresentano le medie sulle analisi effettuate e attestano la purezza microbiologica dell'acqua che ogni giorno sgorga dal vostro rubinetto. Da casa potete fare il confronto tra i dati riportati su queste tabelle e gli stessi che trovate nell'etichetta delle acque in bottiglia. Ma vediamo i dati più significativi per attestare purezza e salubrità dell'acqua. Il pH, ovvero l'indicatore d'acidità, è 7,59. Il residuo secco è pari a 171 mg per litro. Colore e odore sono assenti. Il calcio è 53,5 mg per litro. I floruri hanno un valore di 0,12 mg su litro. Il potassio è inferiore ai 5 mg litro. Mentre il magnesio si attesta sui 12,9 mg su litro. I dati sono stati forniti da Etra che si occupa di monitorare l'acqua assieme alle ulse in tutto il territorio di sua competenza. Con questo è tutto. Grazie della cortesia e attenzione. Buonasera. Grazie.